ciao sono leonardo raso della lr immobiliare oggi mostro un appartamento a roma zona con gli albani in via genzano in una palazzina edificata nel 1959 di otto piani con facciata in tinta attualmente in rifacimento per ecobonus al 110 per cento dotata di ascensore e senza servizio di portineria proponiamo in vendita un interessante appartamento di 95 metri quadri circa posto al piano secondo internamente composto da un ingresso con corridoio un salone servito da un balcone una cucina abitabile dalla quale è possibile accedere allo stesso balcone una camera matrimoniale dotata di un piccolo balcone di servizio una seconda camera matrimoniale nella quale sono presenti un bagno e un ripostiglio che può essere facilmente trasformato in una cabina armadio l'appartamento ha una tripla esposizione e risulta luminoso e silenzioso abbiamo visitato un delizioso appartamento di 95 metri quadri circa posto al secondo piano di una palazzina di otto dotata di ascensore e senza servizio di portineria edificata nel 1959 l'appartamento ha spesi condominiali pari a circa euro 60 al mese ed è dotato di riscaldamento autonomo la rendita catastale è pari ad euro 994,18 centrisimi potete vedere foto e video di questo appartamento sul nostro sito www.lrimmobiliariroma.it e sui nostri canali social LR Immobiliari vado a casa in buone mani